Tempo ancora instabile sul Friuli Venezia Giulia, ancora soprattutto nella notte tra venerdì e sabato mattina quando ci saranno ancora correnti umide meridionali che provocheranno rovesci e temporali sparsi. Al mattino di sabato l'instabilità tenderà un po' ad attenuarsi, ancora piogge sparse, qualche rovescio, poi schiarite nel pomeriggio di sabato su pianura e costa, ancora variabile invece probabilmente sulla zona montana dove saranno possibili dei temporali più localizzati però. Per quanto riguarda la giornata di domenica abbiamo un miglioramento, l'anticiclone porterà maggiore stabilità, cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, temperatura in crescita con massime intorno ai 30-31 gradi, un po' meno sulla costa per effetto delle brezze, in montagna un po' di variabilità pomeridiana e qualche isolato locale temporale al confine con il Cadore e l'Alta Carnia, quindi le zone più interne della nostra fascia montana. L'inizio della prossima settimana, direi tempo ancora discreto lunedì, anche se va aumentando nuovamente l'umidità e in pomeriggio sera la possibilità di rovesci e temporali a partire dalla zona montana, tempo più instabile martedì con possibili locali rovesci e temporali un po' su tutte le zone. Le temperature rimangono alte ma tenderanno poi a un lieve calo verso la metà della prossima settimana. Buon weekend a tutti!